bella raga qua è savix che vi parla bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale oggi vi porto il metodo semplicissimo ragazzi per fare le braccia invisibili e la tuta la sub nascosta quindi iniziamo subito requisiti avere qualche soldino per comprare gli outfit ragazzi ci compriamo una tuta da sub e la andiamo a salvare in un qualsiasi slot a questo punto facciamo la stessa cosa con il completo integrale andremo a comprare un completo integrale ragazzi e lo andremo a mettere in un qualsiasi slot a questo punto una volta fatto ciò potremo andare raga o al cannocchiale o all'auto officina io in questo che dice raga userò l'auto officina voi se non vi trovate potete andare anche al cannocchiale spiaggia oppure nell'appartamento intanto raga vi invito a lasciare un like a iscrivervi se non l'avete ancora fatto e detto ciò una volta che siamo o al cannocchiale o all'auto officina dovremo andare a mettere ragazzi la maschera di questa tuta integrale nella tuta da sub quindi come facciamo ci sediamo ragazzi qua sul divano se lo fate come faccio io e una volta che ci sediamo andiamo a interagire con la sigaretta una volta che abbiamo interagito con la sigaretta apriamo subito il menu interazione e una volta che stiamo fumando abbiamo aperto il menu interazione raga ci andiamo a mettere la tuta da sub a questo punto quando finirà l'animazione raga si immergerà la maschera sulla tuta la sub adesso regal non ci resterà altro che dirigeci verso o l'appartamento o un negozio di vestiti o dal negozio di maschere l'importante è che possiamo interagire con gli outfit quindi appena siamo arrivati raga cosa facciamo ci salviamo subito l'outfit per non perdere la maschera mergiata con tutta la sub e a questo punto una volta che ve lo siete salvati io sovrascriverò su sub ragazzi eliminerò integrale che non mi serve più cosa andiamo a fare semplicemente andiamo a cercarci gilet raga e vi scegliete il gilet che volete mettere per far uscire le braccia trasparenti io ragazzi sceglierò aderente grigio e una volta che avete scelto il vostro gilet vi dovete essere care o in spiaggia o in una qualsiasi piscina ragazzi perché già così raga avremmo creato la nostra tuta la sub nascosta quindi andiamo dove c'è l'acqua io userò questa piscina vicino sub urban e una volta che mi butto dentro ragazzi indovinate un po sbada bam avremmo le braccia invisibili e avremmo la tuta la sub nascosta quindi una volta che salvato questo outfit ragazzi ogni santa volta che toccheremo l'acqua ci comparirà la tuta la sub ed è veramente veramente comodo soprattutto se dobbiamo fare qualche missione e non ci piace usare raga la tuta la sub quindi a questo punto entriamo all'interno ce lo salviamo subito così non lo perdiamo sovrascrivete su sub cancellate integrale se ce l'avete andate a metterci quello che volete raga dei guanti e dei bracciali una sciarpetta io infatti ci ho messo la sciarpetta e bracciali raga per farlo un po più carino se volete metterci qualcosa in testa potete farlo l'importante che controllate che non si levano le scarpette se no sbagherete il completo e non vi darà più la tuta da sub una volta che toccate l'acqua quindi a questo punto lasciate un like lasciate un commento supportate savix supportate il canale abbonatevi se volete supportarmi alla grandissima e alla prossima bella raga sbada ciao 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 ciao